Una novità di Caudalie per l'estate 2011, un fluido luminosità perfetta con fattore di protezione 15. Il vino Perfect Fluid Perfezione Clà, con tre attivi svalorditivi. Vediamolo in dettaglio. Il fluido luminosità vino Perfect è un concentrato di principi trattanti e correttori, un fluido perfezionatore che risveglia la luminosità dell'incarnato in un solo istante. Giorno dopo giorno la pelle trasformata, le imperfezioni e le macchie cancellate, la grana affinata, l'incarnato più uniforme. Estratta dai tralci rivite, la viniferina brevettata da Caudalie, titolata qui in questo prodotto in 500 parti per milione, dimostra un'attività eccellente sulla luminosità dell'incarnato e sulla riduzione delle macchie. Conoscete il detto, quando le viti piangono le donne sorridono? Beh, questa è la ragione. La presenza nel siero dei tralci di viniferina. Altre sostanze, principi attivi contenuti in questo eccellente fluido sono, oltre la viniferina ovviamente, l'enzima di papaya che sublima l'incarnato, i tannini che affinano la grana della pelle, l'acido ialuronico come agente reidratante. Va applicato sul viso e sul collo la mattina o dopo aver applicato il siero Vino Perfect, che contiene una più alta concentrazione di viniferina. E' adatto questo fluido per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.